Sabotaggio durante la notte all'ospedale Santa Croce di Fano, danneggiate le strutture dell'ambulatorio di ortopedia. Amara sorpresa questa mattina per i medici e gli operatori sanitari della Sala Gessi al piano terra del padiglione B. Qualcuno durante la notte scorsa si è introdotto nei locali dove opera l'equip medica e dove vengono visitati i pazienti ed ha preso di mira diverse postazioni nei locali. In particolare sono stati tagliati di netto i cavi dell'alimentazione elettrica e telefonica delle dotazioni informatiche della sala. Diversi monitor, computer e server usati dai medici sono rimasti quindi ciechi, isolando anche la sala dalla rete telefonica. Danneggiato anche con lo stesso metodo, uno strumento utile ai medici, una sega elettrica che viene utilizzata per rimuovere i gessi dai pazienti. Non ci sono tracce però di forzatura, di porte e serrature, né tantomeno tentativi di scasso. Resta quindi da capire come i malintenzionati si siano introdotti nei locali. La direzione della Santa Croce, nella persona del dottor Nicola Nardelli, sta operando in piena collaborazione con gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, per capire le circostanze nelle quali sono maturate i termini per questo danneggiamento, che non è la prima volta ci viene riferito che episodi di questo genere si verificano sempre nelle strutture dell'ortopedia. Stamattina, nelle prime ore, gli agenti della polizia hanno effettuato un sopraluogo ed eseguito i rilievi sulle strutture danneggiate. Contemporaneamente anche i tecnici incaricati hanno provveduto a riallacciare e ripristinare le linee di alimentazione per consentire il normale svolgimento delle attività della Sala Gessi e non causare interruzioni nelle prestazioni sanitarie del reparto, che ora opera in piena efficienza come di norma.